L'isola dei famosi 2018 terza puntata, eliminata rosa per rotta. Anticipazioni l'isola dei famosi 2018 terza puntata, rosa per rotta a rischio eliminazione. Lunedì 5 febbraio in Prime Time su Canale 5 andrà in onda la terza puntata dell'isola dei famosi 2018 condotta da Alessia Marcuzzi con la partecipazione di Stefano De Martino. Anche in questo nuovo appuntamento in diretta con il reality show mediasi ci saranno un bel po' di colpi di scena e ne vedremo di tutti i colori. In primis verrà fatta chiarezza dopo lo scandalo droga della scorsa settimana, chi ha investito il giovane Francesco Monte. Spoiler-isola dei famosi terza puntata, scandalo droga. L'ex fidanzato della sorella di Beller Rodriguez è stato accusato di aver fumato marijuana in Honduras nei giorni precedenti lo sbarco ufficiale sulla spiaggia. Un'accusa decisamente molto pesante che ha ovviamente indotto Mediaset ad attuare delle indagini volte a scoprire la verità dei fatti sul concorrente. La produzione dell'isola dei famosi ha fatto sapere che tutta la verità sul caso Francesco Monte verrà svelata in diretta al pubblico nel corso della terza puntata in diretta, che vedremo lunedì sera dalle 21.30 circa su Canale 5. Ma le sorprese non sono finite qui, perché in realtà potrebbero essere ben due i concorrenti di questa isola dei famosi a dover fare le valigie e quindi ad abbandonare il cast delle reality show dopo lo scandalo droga portato alla luce da Avenger. Ma nel corso della terza puntata delle reality show Mediaset in onda lunedì 5 febbraio su Canale 5 scopriremo anche il nome del secondo eliminato ufficiale di questa tredicesima edizione. Tre i concorrenti, che sono finiti in nomination la scorsa settimana, tutte donne. Rosa Terrotta eliminata dall'isola dei famosi 2018. Trattasi di Nadia Rinaldi, Rosa Terrotta e Frenesca Cipriani, in queste ore è il pubblico da casa con il televoto, che sta decidendo le sorti delle tre concorrenti in gara, una di loro sarà eliminata definitivamente dal reality show nel corso della terza diretta dell'isola dei famosi e al momento sembrerebbe che in quale posizione per l'antio finale ci sarebbe l'ex tronista Rosa Terrotta. Il pubblico social, infatti, si sta esprimendo a favore dell'eliminazione di Rosa Terrotta dalla trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, a favore quindi sia di Nadia Rinaldi, che della bombastica Francesca Cipriani, considerata una delle più amate di questa tredicesima edizione dell'isola, sarà proprio la bella rosa a farne le spese in questo televoto, voi chi volete fuori dall'isola in questa nominazione, diteci il vostro parere.